eccoci qua allora musica digitale notizia e questa ce n'è una sola che mi pare molto interessante anzi poi voglio chiedere al nostro ospite che cosa ne pensa perché apple paga il doppio praticamente rispetto alle altre piattaforme cioè rispetto a spotify che vuol dire che apple paga un centesimo di dollari ad ogni volta che qualcuno riproduzione per cui ogni volta che ha ascoltato una canzone l'artista se l'ha ascoltato di app prende un centesimo se invece lo fate attraverso piattaforme gli danno meno soldi e questa è una cosa come dire è una cosa da sapere no soprattutto dal punto di vista degli artisti a proposito di artisti abbiamo uno dei più grandi rocker italiani che è omar pedrini eccolo qua adesso arriva ve lo attivo se riesco da qua eh omar ciao a tutti ciao marco come va aspetta che ti fanno un applauso adesso guardali eh oh grazie no questa è la risata aspetta l'applauso questo qua eccolo no ma loro sono veri eh sono solo i suoni sono solo i suoni senti cosa ne pensi di questa cosa qua della grazie caro cosa ne pensi di complimenti hai visto ti piace eh non è male male molto molto bella molto senti cosa ne pensi grazie cosa ne pensi scusa c'è un po di ritardo e allora ci sovrapponiamo cosa ne pensi della musica digitale di cosa è cambiato questo mondo in questi anni e appunto anche di questa notizia che apple paga il doppio cioè dal punto di vista di un artista come te che cosa è successo cosa è cambiato dimmi il tuo parere allora caro marco pur non essendo un nativo digitale ma ho due figli una moglie millennials per cui ecco qualcosa ho dovuto imparare all'inizio della rivoluzione digitale dopo un periodo di sospetto nei confronti del digitale che sembrava ci portasse via il lavoro io mi sono espresso favorevolmente perché ho detto è vero probabilmente ci saranno tante persone che downloadano illegalmente le canzoni e quindi noi non vedremo più il becco di un quattrino però mi rendevo conto che comunque sarebbe stato come avere una grande distribuzione gratuita quindi se laddove avremmo perso qualche soldino ci guadagnavamo magari in popolarità e quindi potevamo fare più concerti più eventi più sponsorizzazioni per quelli che hanno degli sponsor personali oggi la situazione diciamo si è abbastanza regolamentata fino all'arrivo di spotify qualche giorno fa uno dei miei e so anche dei tuoi artisti preferiti inglesi paul weller ha rilasciato e ha postato un post appunto scusate la ripetizione molto molto perentorio molto duro nei confronti di spotify e diceva ho venduto tre milioni di persone hanno sentito la mia musica su spotify grazie per le 12 mila sterline no era molto ironico molto sarcastico addirittura direi questo suo messaggio sapere che apple ha raddoppiato quindi vedremo un centesimo in più a canzone ovviamente mi fa piacere però come diceva la mia nonna piuttosto che niente meglio piuttosto credo che ci sia bisogno ecco di dare un input maggiore ancora ai musicisti questo passo di apple oltre che una mossa sicuramente strategica per guadagnare posizioni e appunto affezionati afficcionados delle sue proposte credo ecco sarebbe necessario riconoscere più diritti d'autore la notizia che vi do da editore siccome sai che sono titolare della senza vento edizioni musicali dopo una riunione plenaria di qualche giorno fa con la femma con la federazione degli editori musicali mi hanno mi hanno proprio detto che è iniziato un discorso propositivo con la comunità europea anche la federazione italiana ha aderito insomma a questo a questo scambio questo confronto quindi sono ottimista per il futuro va bene ma cosa si dovrebbe fare secondo te cioè quale quali sono le cose da fare per cambiare questa situazione secondo me secondo me sarebbe necessario aumentare in percentuale la quota che va all'autore e all'interprete della canzone a rispetto di spotify di di apple appunto di tutti di tutte le piattaforme e anche in particolare delle case discografiche sono accordi che sai se una delle una volta dicevamo le sette sorelle le sette major oggi sono in italia sono rimaste tre grosso modo più due due giganti italiani insomma se le cinque sorelle riuscissero a mettere della musica italiana in rete che viene scaricata ecco sarebbe giusto riconoscere agli autori e non solo la casa discografica che poi con il solito sistema di distribuisce agli artisti insomma dei piccoli passi che adesso l'industria discografica comincia ad essere soddisfatta quindi abbiamo sistemato mamma adesso pensiamo anche a papà e quindi a noi autori e a noi su cosa stai lavorando omar sto lavorando lavorando al disco nuovo già quando abbiamo iniziato il secondo la seconda ondata in italia per cui ho fermato il progetto adesso c'è la possibilità di cominciare a fare qualche concerto ampli tu sai che io ho due vesti una elettrica e una un po più intimistica plug e posso annunciare che da giugno da metà maggio giugno inizierò a fare qualche qualche serata per tastare il terreno e ci auguriamo tutti da quest'autunno inverno di ricominciare nei club con la band dai o io vedo che dietro ai kit richards qui guarda il braccialetto e come vedi siamo nella mia nella mia stanza del cuore nella mia cameretta diremmo se fossimo adolescenti c'è un omaggio a te con kit richard sono venuto di proposito e accanto puoi notare gli che sono la mia band preferita è un omaggio alla nostra alla nostra amicizia ma generation my generation grande omar grazie un applauso mar forza ragazzi vai questo è tutto per te eccoli qua quelli che chissà quanti altri migliaia